Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, lunedì 8 aprile. Domenica scorsa si è verificato un altro incidente nel Muragnone in Murazzi di Pelestrina che ha richiesto un rapido intervento di soccorso. Verso le 18, un po' dopo le 18, l'allarme è stato lanciato. Inizialmente sono intervenuti il personale sanitario dell'ospedale di Chioggia con un'ambulanza automobile medica. Successivamente parte del personale si è imbarcato al molle di Vigo su un motoscafo di viso di fuoco che li ha trasportati sul luogo dell'incidente a Pelestrina. Poco dopo è intervenuto anche l'elicottero del 118 che ha tirato direttamente a Pelestrina e ha trasportato il ferito o la ferita, al momento non sappiamo il sesso, all'ospedale dell'Angelo, apparentemente all'ospedale dell'Angelo. Non è noto al momento la gravità della situazione. Questo è il quarto o quinto incidente, probabilmente di più, che è avvenuto negli ultimi dieci anni. A volte con esiti drammatici, sono morte almeno tre persone da quello che ci ricordiamo, nonostante il divieto imposto dalle autorità competenti, che hanno segnalato il pericolo e evitato l'accesso al muraglione. Molte persone continuano a ignorare tali avvertimenti. Addirittura, ci sembra due stagioni fa, qualcuno addirittura ha percorso il muraglione in bicicletta. Ci sono le foto, abbiamo pubblicato le foto. Quindi, tra questi qui che continuano ad andare sul muraglione e cascano, è i cosiddetti Novax, che l'umanità stia andando verso l'estinzione e sta diventando sempre più un'oggettiva realtà. Da oltre 50 anni, Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredobagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia, per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Oggi si è tenuto a Chioggia, come in altri molti paesi e città, l'evento che ha festeggiato l'arrivo della primavera, una giornata ecologica all'insegna dell'esplosione dei colori e dei profumi che accompagnano la bella stagione. Chioggia, diventata per una giornata zona pedonale, è rimasta chiusa al traffico lungo tutto il corso, da Santa Maria a Vigo e lungo tutta Calle San Giacomo, esattamente come accade il giovedì giorno di mercato. Le rare macchine che sono rimaste parcheggiate in corso si sono ritrovate con un verbale sul parabrezza. In altre occasioni simili era intervenuto il carro a trezzi che aveva provveduto alla rimozione forzata. Quindi è andata anche bene. Le bancarelle che hanno costellato il corso del popolo, oltre ai fiori recisi, piante in vaso e fiori sintetici, hanno presentato specialità gastronomiche tipiche e prodotti artigianali, destando curiosità nel folto pubblico intervenuto fin dalle prime ore del mattino. I fiori si sono visti anche nell'esposizione organizzata a tema floreale realizzata dai numerosi artisti di Chioggia intervenuti e appesi ai pilastri del municipio. Nel sottoportico del Palazzo Municipale si è tenuta una straordinaria esposizione di bonsai, con piante molto particolari, incluso un gliccine in piena fioritura. Particolare l'intervento ispirato alla Domenica Ecologica, quello dei gondolieri sommozzatori, associazione di volontariato di Venezia, giunta a Chioggia in trasferta per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del mantenere il fondo dei canali pulito, non usandolo come discarica. I volontari si sono immersi più volte durante tutta la giornata, raccogliendo dal fondo tutto ciò che riuscivano a recuperare. L'associazione è nata con lo scopo di raccogliere più copertoni possibili, usati come parabordi per le imbarcazioni. Con loro era presente l'artista veneziano Giorgio Bortoli. Riguardo l'inquinamento dei canali, ricordiamo i due natanti colati a picco ormai da un mese che in questo periodo hanno continuato a sversare in laguna oli e idrocarburi, costituendo un pericolo per la navigazione nel silenzio generale. In questa giornata si è tenuta anche la Festa del Cristo a San Domenico, dove si è tenuta una messa solenne ufficiata da Monsignor Zocca. Presente il sindaco Mauro Armelao, il comandante della Capitaneria di Porto Alessio Palmisano, autorità civili e militari, rappresentanze delle associazioni combattentistiche ed arma, oltre che i fedeli, non tantissimi a dire il vero. La messa è stata accompagnata dal coro popolare, diretto dal maestro Loris Etiozzo e dall'organo della Chiesa. La mattina ha visto la presenza in campo del Duomo di una lunga teoria di moto, naked e carenate, condotte da bikers provenienti da Padova e dal Friuli. Non si è trattato di un evento ufficiale, ma di un appuntamento che i bikers rinnovano ogni anno nella nostra città. A ora di pranzo, una dietro l'altra, al rombo tipico delle Harley Davidson, si sono dirette altrove. Ma nel frattempo, contraddistinti dalle giubbe di una o dell'altra associazione a cui appartengono, li si sono visti passeggiare per incuriositi. Le loro moto sono state gli unici veicoli ammessi nel centro storico pedonalizzato. Le Mille Una Notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione suota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le Mille Una Notte di Elisa riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Domenica mattina la strada provinciale 7 che collega Pegolotti a Mossole è stata interrotta al traffico per consentire le ricerche del signor Roberto Borella, classe 1962. Qualcuno, forse un familiare, deve aver lanciato l'allarme nella serata di sabato poiché Borella stava rientrando a casa con una bicicletta mountain bike e, evidentemente, qualcuno si è accorto della sua scomparsa. Carabinieri e Vigile del Fuoco, con l'ausilio di un reparto sommostratori, hanno avviato le ricerche nel canale chilometro 2, dove erano presenti evidenti tracce di sangue che indicavano il luogo dell'incidente. Sembra che si tratti di un vero e proprio investimento, con il 62enne colpito in modo violento, provocandone la caduta nel canale con la bicicletta, dove è stato poi recuperato dal reparto sommostratori. La strada è sorvegliata da alcune telecamere di sicurezza, quindi le forze dell'ordine potrebbero risalire all'identità dell'investitore. Sarebbe opportuno che la persona responsabile dell'incidente si presentasse alle autorità per evitare ulteriori complicazioni. Roberto Borella, pensionato, lascia la moglie Mara Pasquato e i figli Luca. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono. E niente, ogni tanto un po' di pizza, va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Siamo con Fabrizio Pilla, presidente dell'associazione Remiera Clodiense. Oggi in questa giornata dedicata alla Domenica dei Fiori, Chioggia in Fiore, ma anche con l'intervento dei sommozzatori, i gondolieri sommozzatori di Venezia, è intervenuta anche la vostra associazione. Come mai? Allora, noi oggi interverremo dopo, perché adesso stiamo facendo i preparativi, diamo appoggio all'iniziativa dei gondolieri sommozzatori. Come vede, siamo qua con due imbarcazioni tipiche venete nostre, dove recupereremo quello che porteranno a gala i sub. Quindi un appoggio simbolico più che altro, perché condividiamo quello che è il volontariato e l'ecologia. Cioè, oggi c'è bisogno di volontariato e le associazioni culturali, sportive, lo rappresentano in pieno. E con l'ecologia, perché la pulizia del canale oggi è simbolica. Adesso vedremo cosa recupereranno i... Io sono spaventata l'idea di cosa verrà recuperato. Infatti mi chiedevo se bastano queste due imbarcazioni. Se non basteranno cercheremo insomma... Di fare più giri. Sì, l'importante è comunque sensibilizzare quella che è l'opinione pubblica a livello ecologico. Questo è quanto. Speriamo che la cosa, vista anche la giornata, ha il tempo bellissimo. Spero che vada tutto bene. La collaborazione dall'inizio con i gondolieri sommozzatori è stata delle migliori. Quindi contiamo che la giornata sia produttiva. Come avevamo accennato domenica mattina, nel corso della notte tra sabato e domenica c'è stato un lungo intervento dei vigili del fuoco nei pressi della chiesa di Sant'Andrea a perdita di gas. Quando è stato dato l'allarme per odore da uno degli operatori che c'è lì in zona con l'immediato intervento dei vigili del fuoco di Chioggia hanno rilevato immediatamente un'altra concentrazione di gas metano e quindi c'è stato un immediato intervento anche da parte dell'azienda del gas dove hanno potuto, dopo diverse misurazioni e anche alcuni carotaggi hanno individuato la perdita che era piuttosto importante. Nel corso della mattinata di domenica e quindi durante la manifestazione Chioggia in Fiore c'è stato un importante intervento con lo scavo come potete vedere dalle immagini e si confida che possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile. Siamo nello studio del servizio Nordest 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizzi in particolare su Superbonus gli interventi prevalentemente condominali di efficientamento energetico. Il Superbonus esiste ancora fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su Superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie servizi Nordest 2.0 via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Davanti ad un pubblico straripante circa 2.000 tifosi con una curva che ha incitato la squadra in maniera calorosa e rumorosa va in onda il ballarini il match tra Union CS e Bassano. Rientra titolare Franzini in porta Filippo Serena ancora parte dalla panchina in avanti il trio delle meraviglie Agliu, Mauri e Beltrame. Primo tempo difficile in cui Bassano si difende molto bene e crea pochi varchi ai Granata i quali sono molto indecisi e fanno diversi errori. Nonostante tutto l'Union CS crea due grandi occasioni da gol la prima al diciottesimo del primo tempo è sui piedi di Agliu su un errato disimpegno del Bassano ma il portiere Costa compie un autentico miracolo. Poi al venticinquesimo su una bella triangolazione di gioco Mauri tira a botta sicura ma il portiere rispinge in calcio d'angolo. L'episodio che mette il match in discesa è stata l'espulsione di Taiyo per doppia ammunizione alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo l'Union attacca tutta visto anche il vantaggio del Belluno. Al decimo su un gran tiro di Mauri Costa compie un autentico miracolo. Andreucci a questo punto gioca la carta Sinani al dodicesimo al posto di Serena con un attacco a due punte e la mossa vincente. Si concretizza al sedicesimo del primo tempo un grosso pennellato di Agliu su i piedi di Beltrame che al volo di prima intenzione scaraventa la palla in rete sotto la curva granata in un delirio liberatorio di gioia indescrivibile. Dopo il vantaggio Andreucci risistema la squadra e torna il 4-3-3 sostituendo un buon Agliu con Filippo Serena. Al trentadunesimo l'Union chiude la partita su un gran assist di prima di Sinani per Beltrame leggera incertezza in uscita di Costa e Beltrame fa doppietta. La partita si chiude con il giusto tripudo della squadra la curva e tutto il grande pubblico a corso oggi. In sala stampa solita prudenza per il di essere e l'allenatore e il presidente mentre Beltrame si commuove ripensando all'importanza di questi due gol davanti a questa cornice di pubblico e ai suoi familiari. Il Belluno resta più 8 vittorioso anche oggi in casa del Charlie. Domenica ci sarà a Feltre lo scontro diretto tra le due formazioni più forti del Gironi. Solo in caso di vittoria ci sarà l'apoteosi per l'Union CS. Dal gruppo Facebook Tifosi Union CS tutto alla prossima. Tifosi Unione CS Unione CS preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'indiga gelato artigianale anche per l'asporto per gustarlo in compagnia dove vuoi tu all'indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco ricordandovi che la farmacia di turno oggi lunedì 8 aprile la farmacia san giovanni a borgo san giovanni vi saluto vi ringrazio se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria pegaso a borgo san giovanni vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali telegram e whatsapp azzurra network news ciao a tutti alla cartoleria pegaso a borgo san giovanni a chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50 per cento sulle migliori marche seven invicta tinta unita comics su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50 per cento di sconto ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi su quelli vuoti buste e tombolini offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità cartoleria pegaso borgo san giovanni chioggia